Salve, sono Pastorello Stefano, titolare di un'azienda metalmeccanica di Campiglia dei Berici. Noi siamo produttori di macchine per l'industria dell'abbigliamento e qui sono a presentarvi una macchina che ci ha richiesto un nostro cliente che gli serve per completare dei particolari da girare. La macchina serve per rivoltare delle cinturine o degli alamari o delle cose, in poche parole, di tessuto, di pelle o qualsiasi altro materiale che si usa nell'abbigliamento in genere. La macchina è dotata di una sicurezza anche per l'operatore che anche se sbadatamente mette le dita sopra al punto di lavoro, la macchina riconosce che c'è un dito e quindi si ferma e quindi la macchina è sicura a norme CE. Questa macchina è indirizzata a chi produce cinturini, cose di abbigliamento da rovesciare, cinture per abiti da donna o alamari dove sono cuciti a rovescio e devono essere rivoltati. Quindi tutto il settore è moda. Grazie. 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 Grazie.